partiamo dall'inizio come è cominciato ma è stato più per gioco che per una reale volontà di correre nel senso che io essendo nella zona da ferrari chiaramente si era tutti appassionati di corsa eccetera eccetera ma io correvo in motocross quindi niente a che fare con con le macchine da corsa poi sempre qui in questa zona c'era Andrea Montemi che conosciamo tutti che ha avuto qualche avventura anche lui in Formula 1 di cui ero ero amico e abbiamo cominciato a giocare con le macchine radiocomandate da lì c'è stata l'escalation lui era molto appassionato forse più di me voleva comprare un go kart gira 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 abbiamo trovato un go kart siamo andati a comperarlo e l'abbiamo portato a casa gli è scoppiato i fini mondo chiaramente suo padre non ne voleva sapere mio padre men che meno tutta gente che comunque lavorava nel campo della ceramica quindi corse non se ne poteva parlare minimamente quindi Andrea abbandonato in quel momento la sua carriera automobilistica io sotto sotto insistendo un po sono riuscito a convincere mio padre a portarmi a fare una gara c'era ancora la pista di Vado a Bologna una domenica mattina partiamo con questo go kart ma veramente un go kart abbattato su che non sapeva neanche se poteva correre siamo andati a fare le classiche gare club questa è stata la mia prima avventura tant'è che è durata non più di un pronti via e poi il go kart ha deciso definitivamente di smettere di funzionare e mio padre con grande entusiasmo e allegria mi ha detto ok basta abbiamo scherzato finita la festa e lì diciamo si è interrotta un po questa mia voglia di competizione non tanto di correre in macchina ma questa voglia che avevo di competizione sono sempre stato appassionato di gare di sci di bicicletta quindi sono sempre avuto un po nel sangue un buco temporale di un paio d'anni e nasce una categoria promozionale che faceva allora si chiamava cali kart adesso CRG il vecchio cali si inventa questa categoria mono a marce perché allora c'erano i cento presa diretta che era diciamo la categoria top dove c'erano tutti i piloti che poi sono andati in formula uno da senna piuttosto che che altri e questa categoria 125 marce mono mono freno un po come la 100 erano tutti uguali perché no proviamo a raccata un po di soldi da mio nonno raccata un po di soldi dalla mamma della mia ex morosa sono riuscito a iniziare a fare questa questo trofeo monomarca alla fine dell'anno sono arrivato terzo e lì si vinceva un telaio per la categoria 125 classica adesso non ricordo più come si come si intitolava e riesco a rimettere insieme questo go car vado a fare le ultime tre gare del famoso trofeo dell'industria parma dove allora c'erano piloti ufficiali faccio queste due gare e bene o male comincio a dare fastidio ai piloti ufficiali della allora tonic art che era gli inizi tonicati iniziava praticamente da quell'anno lì perché rubazzi aveva rilevato l'azienda vecchio toni e niente quell'occasione mi ha chiesto se volevo correre con loro non è un problema mio se volete venga a correre da lì iniziata un po la mia la mia storia tant'è che nell'arco di due anni ho vinto tutto quello che c'era da vincere dal campionato italiano club azzurro si chiamava fino al mondiale dove c'era tarquini che era diciamo il boss della della categoria ho vinto il mondiale poi con una connessione con mio zio che faceva rally ha fatto sì che potessi avvicinarmi che allora il mondo degli sponsor che poi non è più nemmeno quello che è oggi era molto più facile allora siamo riusciti subito a debutare in formula 3 fatto due anni con la prema il secondo anno ci siamo giocati i campionati italiano praticamente all'ultima gara io in aspetti mamma mia che vuoto che ho martini non pierluigi suo parente non mi ricordo anche più il nome pensa quanti quanti anni sono passati e finisco terzo praticamente a due punti dal primo e lì è iniziato un po giro diciamo dell'automobilismo a alto livello perché poi la camel mi ha ingaggiato mi ha messo iniziato a fare formula 3000 tant'è che ho debuttato alla seconda gara in formula 3000 ho vinto a valle lunghe poi aperto apro una parentesi chiudo una parentesi sono stati tre anni molto molto tribolati tribolati perché dopo le scelte del team discutibili non discutibili budget non budget ci si perde un po quando ho capito che sarebbe stato difficile fare il salto in formula 1 tant'è che poi siamo entrati negli anni di tangentopoli che i piloti italiani cominciavano ad essere un po sottomira allora c'erano 12 piloti italiani in formula 1 dopo tangentopoli sono spariti praticamente tutti cambiato il vento mi si è presentata l'opportunità di fare alcune gare con la pegeot che entrava nel campionato italiano turismo che loro divise in due categorie s1 s2 cioè s1 era dove correvano ravaglia piuttosto che diciamo le marchi i marchi top s2 è una categoria meno elaborata la pegeot si era affacciata a questo mondo venendo provenendo dai rally dove correva ghini con la 405 e lì praticamente iniziata la mia carriera automobilistica a livello professionistico arriviamo agli anni della dell'alfa romeo come vi siete uniti ma io con la pegeot bene o male davo del gran filo da torce sia bmw che alfa romeo e quindi chiaro che eravamo nel negli anni della crescita del turismo l'interesse era più forte dove si era la ricerca della prestazione del risultato quindi ci andava un po come dire a guardare nel giardino degli altri come momento lì pegeot era una fase del faccio non faccio anche perché erano molto concentrati sulla 24 ore di le man gli sforzi pegeot erano lì invece alfa romeo ci credeva molto che c'era il dtm che comunque c'era il super turismo a quel punto c'è stata l'occasione di entrare nell'ottica alfa romeo che poi in realtà non sono entrato direttamente notica farone perché in italia c'era nord auto che gestiva le alfa romeo il programma forno per il campionato italiano invece l'alfa corse con tarquini correva in inghilterra tanto che aveva vinto il campionato inglese un anno poi l'anno dopo sono venuti via perché sono entrati in polemica con con regolamento con il col campionato inglese quindi primo campionato in alfa fu il 95 95 com'era quella macchina lì ma 155 diciamo che era una macchina rispetto alla concorrenza un po più difficile da sviluppare il regolamento partiva e derivava dall'auto stradale con tanti limiti quindi capisci che se parti da un progetto magari più vecchio rispetto a quello che poteva essere bmw piuttosto che audi e c'è chi di competere con loro quando il regolamento è molto restrittivo c'è avuta tanta tanta malizia da parte del team da parte dei tecnici da parte di tutti per cercare di essere al loro livello ci siamo riusciti e li abbiamo anche dato da fare chiaro è che era come dire gli investimenti che audi facevo bmw faceva in quel momento in nel turismo non erano sicuramente quelli che alfa romeo faceva nel super turismo perché erano molto concentrati nel dtm gli anni del dtm dal 93 che c'è stato questo esplorato dell'alfa in germania questa sorpresa perché non giovanardi ma in realtà giovanardi l'ha sfiorato il dtm perché dopo il mio ingresso in nord auto cioè nell'orbita alfa romeo nel 95 ho avuto un approccio di due gare una e mezza via dtm in occasione fatto che comunque alcuni piloti non partecipavano perché anche lì c'erano dei piloti ufficiali i piloti semi ufficiali e ho avuto quest'occasione che è stata a norimberga 95 direi che tra l'altro sono stato anche sfortunato perché pur avendo un mezzo diciamo non di ultima generazione di ultima evoluzione in casa alfa romeo mi sono giocato la vittoria peccato peccato è che si è rotta la macchina quando in testa con due giri di vantaggio su tutto il resto del gruppo e lì è stato un po come dire un un ingresso fatto in sotto la luce sotto la luce giusta a maniera giusta però poi non si è concretizzato tant'è che la politica diciamo la politica o le simpatie o il momento non è stato propizio per far sì che io continuassi in dtm e tra l'altro sarebbe stato un ingresso che sarebbe durato poco perché nel 96 poi si è chiuso in realtà col senno di poi la mia scelta la mia scelta forzata perché sicuramente stavo spingendo per andare in dtm perché allora era il top diciamo della categoria turismo si è rivelata giusta perché dtm è morto dopo che è diventato i tc l'hanno fatto morire per interessi di portare certi budget in formula 1 quindi l'attenzione di alfa nelle corse poi si è spostata tutta sulla trazione anteriore che stava nascendo l'anno dopo è nata la 156 sì esatto dopo la 155 giustamente il progetto che ormai andava in pensione andava fuori produzione lì c'è stato di nuovo un interesse diretto da parte di alfa romeo abbandonato dtm e spostato il budget fiat in formula 1 c'è stato l'ingresso di nuovo dei tecnici di alfa romeo in collaborazione con i tecnici di nord out ed è nata 156 che ha avuto secondo me una storia molto molto importante perché il super turismo ancora era sotto i riflettori diciamo degli appassionati sotto i miei riflettori sicuramente perché io quelle gare me le sono godute tutte me le ricordo benissimo ogni tanto qua me le guardo ancora e mi piacerebbe sentirne parlare dal dalla posizione dietro al volante ma secondo me quegli anni lì erano gli anni dove c'erano piloti di un certo calibro non perché io adesso debba difendere diciamo la mia generazione però se andiamo a tirare una riga vediamo che ancora i piloti di quegli anni cioè gli anni 90 sono tuttora i piloti da battere stiamo parlando di un gabrile tra quini che ha vinto un mondiale che ha 56 anni quindi alla fine vuol dire che la scuola di quei tempi che era una scuola di volontà cioè si voleva arrivare si cercava in tutti i modi arriva alla selezione era dura perché c'erano pochi campionati e tutti erano in quei campionati oggi c'è una dispersione neanche io so quante categorie ci sono quindi ci ritroviamo 20 vincitori di 20 categorie ma secondo me con una sticella molto bassa quindi poi il carattere soprattutto in turismo dove ci vuole carattere esperienza più che magari velocità in formula 1 è rimasto un po disperso nel lettere e quell'esperienza quella cattiveria io chiamo anche cattiveria perché ci voleva anche della cattiveria cattiveria in senso lato cioè grinta paga ancora peccato per diciamo i piloti giovani che fanno fatica a ritrovare tutto questo insieme di cose perché non c'è più una scuola che fa sì che tu cresca in questo in questo modo di cattiveria ne avete avuta parecchia contro bmw e audi ma eravamo un po tutti contro tutti non era solo audi piuttosto che bmw ma era così il primo che la dava portava a casa il risultato c'era anche più libertà oggi io non concepisco tutto questo controllo da parte di chi che sia che sta dire al di là di un monitor con tutto il rispetto che posso portare a volte sono situazioni che sono imbarazzanti sotto inchiesta sotto investigazione l'hai toccato gli hai grattato l'adesivo gli hai rotto il paraurti a quei tempi i paraurti ce li portavamo direttamente a casa ma era così era bello così era spettacolare così oggi secondo me con tutte queste limitazioni cioè tu sei in macchina e sei lì che dici cosa posso fare ma lo tocco no perché poi mi si sbecca il parafango dopo mi chiamano a correre non è turismo poi se le danno in formula 1 voglio dire che per fortuna è arrivato uno come si chiama il pilota del Red Bull Verstappen che se non altro le tira le picchia e poi li manda anche a spendere come detto come volete che almeno muove un po' tutto questo cristalleria perché sembra tutto di essere una cristalleria secondo me poi infatti erano gare eseguitissime erano gare eseguite perché partivi e non sapevi quello che succedeva al primo curvone ma era il bello di era il bello sconere del gare turismo è assolutamente io ho vissuto un anno solo la finale mondiale a Monza che correva ancora in Peugeot nel 94 partivano le migliori 5 macchine di ogni campionato e c'erano 40 macchine cioè la prima curva a Monza è stato un delirio siamo finiti in 25 dentro il muro perdete l'hanno ripetuto l'anno dopo in Inghilterra mi sembra poi l'hanno rifatta poi dopo anche lì troppo interesse tracca ha spento il riflettore però quegli anni lì certo non c'era tanto tempo da pensare oggi di pensare riflettere di stare quello che dice quello che fai quello che sono si è cambiato è cambiato tanto peccato come era tecnicamente la 156 di due e poi super turismo super 2000 ma allora la 156 super turismo come era ancora una macchina vera perché un regolamento vero cioè c'era ancora ricerca a livello tecnologico non tanto di elettronica perché alla fine c'era veramente poco di elettronica però c'era ricerca nella meccanica era motori aspirati che dovevano girare molto forte quindi c'erano materiali pregiati c'erano cambi da corsa come dico io si facevano i rapporti al giro perché un motore aspirato non è che ti permette tanto di range di utilizzo molto molto bassi erano sospensioni vere insomma era macchina corsa gli stessi gommisti ci investivano molto c'era la guerra tra michelin tra danlop tra yokohama e chi più viene a più ne metta per un risultato quindi puoi capire che erano era tutto tirato al limite spendevamo settimana a provare camion di gomme camion di carcasse camion di tutto poi come tutte le cose giochino si rompe viene la crisi le case hanno meno soldi da spendere o più che meno soldi da spendere cambiano strategie magari si interessano più al calcio piuttosto che la vela piuttosto che il cricket piuttosto che qualcosa altro e quindi c'è stata una grande restrizione al super 2000 super 2000 all'inizio era la macchina un po dico io banale nel senso venendo dal super turismo cominciavamo a entrare nella macchina stradale veramente la macchina stradale pochi cavalli sospensione di serie macchina molto pesante freni piccoli era tutto molto limitato poi anche di durato poco perché dopo sei tutti vogliono vincere abbiamo buffa questo la fa fa questo chi frega un fregone chi non frega e non dico cos'è e c'è stato un escalation insomma dopo alla fine è diventata anche una categoria interessante poi di nuovo durato il ciclo tre anni quattro anni poi è morto tutto tant'è che io sono andato in inghilterra come erano le differenze vantaggi e svantaggi che aveva 156 di due sempre quindi parliamo dell'inizio contro le concorrenti avevamo un limite un po legato al progetto perché sì è vero che era una macchina già con una sospensione quadrilateri anteriore ma non quadrilateri vero avevano un braccio superiore molto piccolino quindi non ci permetteva delle grandi regolazioni però la macchina diciamo rispetto alle 155 era nettamente più corsaiola macchina più bassa macchina più aerodinamica via alla fine secondo me il progetto era giusto chiaro è che dall'altra parte ti trovavi delle case che investivano tanto perché in quel momento bmw spendeva bmw un ottimo prodotto anche stradale e quindi la lotta poi alla fine si è si è giocata lì mi ricordo sempre alla partenza c'erano sempre queste bmw che partivano va bene poi il primo curvone dire un problema di trazione anteriore trazione posteriore chiaramente lo capisce anche un bambino la macchina posteriore quando c'è si schiaccia non non patina la macchina anteriore con 300 cavalli era sempre da giocarsi insomma piede frizione non c'era elettronica quindi non c'era un antispin dovevi devi essere bravo tu a cercare di spuntare il medio della partenza però la macchina poi era era veloce era più veloce secondo me di bmw soprattutto nei giri iniziali poi purtroppo pagava un consumo maggiore della gomma perché comunque pesa da tutto avanti nei finali di gara dovevamo sempre rispolverare tutti i trucchi del mestiere per cercare di portare a casa insomma gare e poi alla fine anche campionato ok l'ultima gara l'ultima curva del 99 ma allora in realtà è successo questo dobbiamo fare un passo indietro prima c'è prima delle gare valunga c'è stata la gara di monza e fino a quel punto le bmw erano ampiamente in testa del campionato cioè in aspetti era davanti a me di una cosa come 60 punti perché c'era una gara lunga e una gara corta non erano gare uguali a livello di chilometraggio quindi una valeva 40 punti una ne valeva 20 arriviamo a monza col campionato perso ok cioè i punti non ci non ci facevano vedere in prospettiva la possibilità di vincere campionato monza parte in testa conduco la gara e a un certo punto in fondo a retino c'era ancora la doppia variante vedo uno sponsor castrol è un altro sponsor castro l'ho attaccato due macchine praticamente si erano buttati fuori aspetti e de simone alla prima curva tant'è che io li recupero una cosa come 40 punti 40 45 punti e andiamo a valle lunga a valle lunga la prospettiva per poter vincere campionato era quella di vincere tutte le manci ci mettiamo d'accordo con con nicola chiaramente che allora il mio compagno di squadra se parte uno davanti se parte uno di dietro insomma alla fine io dovevo portare a casa per avere la certezza matematica di vincere campionato tutte le gare fatto sta che partiamo in testa parte in testa nicola io sono secondo un incompressione vince la gara nicola io arrivo secondo bmw non mi ricordo cosa fece lo comunque arrivarono dietro ultima manche non potevo fare altro che vincere cioè dovevo vincere per forza facendo arrivare manuel non aspetti secondo era la gara più lunga le bmw partivano dietro eravamo sia io nicola in prima fila le due bmw dietro pronti via ci sorpassano facciamo due giri esce la safety car esce safety car de simone che era dietro a emanuele cosa fa comincia a rallentare anche se il regolamento dice che non possono essere più di cinque allora c'erano cinque vetture di distanza tra una macchina e l'altra comincia a rallentare comincia a rallentare comincia a rallentare parte la gara e in aspetti era quattro secondi avanti a a de simone non ci ho più visto detta come vuol detta non ci ho più vista proprio se calata la nebbia e calata la nebbia pronti via sono entrato come se non ci fossero domani alla roma a de simone tant'è che per farla come mi sono dovuto appoggiare a lui e lui l'ho spinto praticamente quasi quasi sul sul guardrail poi mi sono messo in seguimento di emanuele so che emanuele aveva quattro secondi poi le bmw alla lunga comunque avrebbe sfruttato meglio le gomme ho detto qui mi gioco che mi gioco tutto subito ho cominciato messo previamente la testa per terra non guardavo neanche fuori ho cominciato a recuperare i due decimi tre decimi due decimi tre decimi due decimi tre decimi sono arrivato ad essere a due secondi da da lui questo nell'arco di 5 6 giri arriviamo in fondo ai cimini lui probabilmente è andato in crisi non so mi ha visto arrivare è andato in tilt ha perso in una frenata una roba come due secondi io gli sono arrivato dietro prima di girare i cimini cosa ho fatto l'ho dato un accelerato l'ho toccato dietro lui non è riuscito ad accelerare che allora i cimini si facevano frena e si faceva tutto in accelerazione per poi tornare sulla roma che non c'era il pezzo nuovo di valle lunghe si arrivava direttamente in trincea che la trincea era una curva un po particolare contropendenza arrivava di quinta insomma era una curva da pelo non come adesso che ci arrivi di terza e niente lui non riesce ad accelerare fa per rimettere sull'acceleratore in mezzo ai due decimi gli torno a dare una botta lui si sbanda un po non non riesce di nuovo a riprire il gas cosa faccio mi butto nel prato a destra entro proprio nel taglio taglio l'uscita di cimini nel prato mi appoggio a lui abbiamo fatto tutta la salita fiancati lui mi ha spinto praticamente nella pista da moto mi ha spinto la pista da moto io che a quel punto lì non mi poteva fregare de meno ho fatto la trincea di fianco a lui dalla parte esterna che se voleva mi davano a toccato io entravo direttamente al tornante o entravo direttamente in autoambulanza lì proprio sede che non ha non ha non ha avuto diciamo lo scatto ha tolto il piede a quel punto lì era finito e ho vinto il campionato e fino all'ultimo campione italiano io me lo ricordo bene quello inglese l'ho seguito molto meno beh campionato inglese è un mondo a sé secondo me anche a livello di interesse da parte dei media è veramente da alti livelli cioè al di là del fatto che in inghilterra qualsiasi cosa corra ci trovi 20 30 mila persone intorno che la guardano quindi il turismo maggior ragione è sempre un campionato storico perché 60 70 anni di storia ho perso il conto ha un grande interesse da parte delle case automobilistiche e anche degli sponsor e della tv stessa quindi mi è stata una bellissima esperienza molto difficoltosa all'inizio perché io venivo da vincente campionati diciamo nazionali e mi sono trovato scaraventato in inghilterra che non conoscevo piste non conoscevo la lingua non conoscevo le usanze non conoscevo niente mi sono trovato costretto anche perché al formato il punto lì aveva deciso di chiudere i battenti nel 2005 diciamo ufficialmente aveva deciso di chiudere i battenti mi sono trovato per una serie di coincidenze al posto di van muller che veniva via dalla voxel e andava in seat esatto andava in seat nel mondiale perché 7 era entrato ufficialmente nel mondiale e ho avuto il primo anno molto molto in salita macchina tra l'altro il progetto vecchio che sarebbe andata a morire perché era la lastra sarebbe arrivata la vectra quindi non c'era neanche più di grandi investimenti sopra è stato un anno dove ho imparato a capire che le dovevo dare prima di prenderle perché mi sono affacciati in punta di piedi chiaramente giovanardi arrivava da vincente tutti l'hanno preso a schiaffi fino a che una bella mattina ho detto adesso adesso basta e ho cominciato a darle ed è un po nata la vectra ho vinto diciamo i due campionati successivi 2007 2008 2009 non l'ho vinto per un susseguirsi di sportuna e chiamiamolo avrei portato a casa tranquillamente tre titoli consecutivi poi dopo anche lì è arrivata la crisi 2008 soprattutto in casa general motors e siccome voxel non è altro che opel e per la general motors anche di chiusi i battenti è finita la storia come mai gli inglesi continuano più o meno ad essere ancora così appassionati di corse anche quando si tratta di corse come detto prima anche se corrono due carriole le vanno a vedere perché loro si in italia dove c'è in teoria dovrebbe esserci ancora più cultura ancora più amore per questo è una questione di mentalità cioè da copper come la vedo io poi sei la storia la vedo anche da fuori e anche tra i team di formula 1 cioè il mondo dell'automobilismo sportivo gira tutto intorno a anche delle piccole realtà e sono tutte interconnesse cioè non c'è lo specialista tutti si appoggiano per una cosa a un'azienda piuttosto che all'altra quindi c'è un interscambio e questo fa sì che comunque anche a livello di promozione non ci sia l'invidia di di promuovere se stessi ma un mondo c'è il mondo dell'automobilismo se guardiamo le auto storiche se guardiamo chi restaura automobili in inghilterra ma non solo automobili che restaurano aeroplani cioè c'è un mondo c'è un business dietro che tutti vogliono che sopravviva probabilmente in europa è più spezzettata ci sono più case automobilistiche sparse su un territorio dove differenti lingue differente cultura differente interesse fa sì che ognuno cerchi di coltivarsi il suo giardino e questo non aiuta diciamo il basso livello dell'automobilismo rimane solo il top formula 1 dopo tutta questa carriera c'è stato un tentativo di partecipare un ritorno di fiamma un ritorno di fiamma che io ho seguito e mi piacerebbe sentirne parlare da te perché è stata una fine un po un po' controversa ma controversa chiaramente per chi la vive da fuori per chi come te ha vissuto i tempi d'oro del turismo è chiaro che si fa delle domande diciamo che è stata una sfida tra me il team che allora che si era deciso da facciarsi a questo diciamo un nuovo mondiale turismo vtcr nato non dico nato da una costola perché comunque le vetture sono sempre quelle del campionato tcr che è un campionato nato per essere un po la portata di tutti cioè macchine poco costose macchine di derivazione molto stradale quindi poco ricercate a livello di sviluppo di costi insomma fine che ritengo essere una formula intelligente tant'è che oggi ci sono campionati nazionali dove partecipano 30 40 vetture quindi penso che l'ideatore del campionato abbia visto giusto nato questo questo mondiale ho detto perché non riprovarci visto che comunque avrei ritrovato tutti gli avversari di allora se tarquini muller thompson piuttosto che gli ultimi diciamo vincitori del del vtc del vtc comunque tutte persone cioè tutti piloti insomma di un certo calibro detto non ci stono magari la voglia ce l'ho chiaro è che avrei dovuto cercare il modo di entrare nel campionato e in quel momento romeo ferraris era intenzionato a passare del campionato diciamo internazionale campionato mondiale ci siamo trovati e proviamo ad affrontare questa avventura vero è col senno di poi che saremmo andati un po incontro a degli avversari di un certo calibro perché hyundai comunque entrava se non in modo ufficiale perché regolamento non lo permette da dietro le quinte conosciamo conosco i miei polli tarquini lo conosciamo tutti ingegner adamo veniva dal palomeo ed è oggi il gestore responsabile del programma hyundai sapevo che saremmo andati incontro a un'avventura molto difficile però le sfide mi sono sempre piaciute detto proviamo la realtà è stata un'altra la realtà è stata che comunque il livello era molto alto di grossa difficoltà iniziale con la volontà e l'intento di cercare di sviluppare la giulietta anche se progetto di dieci anni quindi molto vecchio di cercare di sviluppare il più possibile nonostante il regolamento dicevo prima è molto restrittivo quindi un'omologa di una macchina per teoricamente non la puoi più andare a toccare quindi se il tuo progetto è fatto sulla base di un risultato di un obiettivo cambia l'obiettivo non puoi più andare a ritoccare il progetto diventa difficile però perché non provarci a metà anno si è cercato di fare un salto di qualità con quello che si poteva fare coi tempi sempre regolamento si è arrivati a ricostruire la sospensione anteriore e la macchina ha avuto diciamo uno strappo di risultato ha fatto un salto di risultato tant'è che in cecoslovacchia ho portato a casa un quarto posto che cominciava a essere interessante in prospettiva di continuare un percorso di sviluppo c'è stato il buco diciamo delle ferie siamo andati in cina e purtroppo in cina per un concatenarsi di eventi la lontananza piuttosto che vogliamo dire sfortuna diciamo sfortuna ha fatto sì che i risultati cominciassero ad essere un po difficili da ottenere è stato due weekend veramente pesanti con sei partenze in ultima posizione a quel punto ho deciso insieme alla squadra che probabilmente non c'erano i presupposti per continuare insieme visioni diverse da buoni amici ci si è dati indietro le fotografie loro hanno continuato la loro avventura io ho deciso di concentrarmi su altro domanda che faccio a tutti qual è stata la tua macchina da corsa preferita oddio 155 perché era era difficile a me le robe difficili mi sono sempre piaciute le robe facili non mi sono mai piaciute cioè 156 per assurdo più macchina corsa ma era già troppo troppo performante soffrivo meno e capito invece con la 55 ci sono tolti delle soddisfazioni uniche contro l'audi contro la bmw con una macchina che sinceramente parlando era morta c'era macchina mai il progetto morto di dieci anni prima aveva già dato tutto quello che doveva dare invece andando a cercare dentro al barile o dentro al cilindro c'era ancora qualcosa secondo me l'interessante ma è stata la macchina più divertente che ho guidato nella mia vita è una macchina che invece non sei riuscito a guidare che ti sarebbe piaciuto anche del passato molto lontano oddio macchina che non sono riuscito a guidare difficile dire ho avuto gli anni difficili perché le corse poi non sono mai improvvisate sembra di arrivare posso fa tutto non è così ho avuto difficoltà ripeto primo anno in inghilterra con la con l'astra ma con l'astra sì ma perché non era una macchina disegnata intorno a me era una macchina disegnata a un pilota che guidava in modo completamente diverso al mio che il van muller era uno bravo a guidare sul ghiaccio io sul ghiaccio non ci vado perché patisco il freddo quindi credo che come vestire un vestito non tuo le corse sono la stessa cosa cioè la macchina te la devi vestire intorno a te nel limite del possibile e quello fa differenza se no tra un pilota in altro a livello di giro al volante c'è la freno se parlo a livello professionistico non c'è una differenza così abissale da poter dire uno è una chiavica e l'altro è un genio è un contesto un contesto di cose quindi se non sei nel contesto giusto se stai vestendo uno di 80 kg si mette un vestito di 150 o di 30 capisci che o ti sta stretto o ti balla bisogna che te lo fai aggiustare no io intendevo non una macchina che ha avuto difficoltà di quelle che hai guidato dico proprio una macchina che l'hai vista correre in mano a qualcun altro e ti sarebbe piaciuto guidarla di qualsiasi categoria di qualsiasi anno qualche macchina che la vede dice quella avrei voluto se ti devo dire la verità avrei voluto fare i rally perché penso che lì non tanto adesso ma allora c'era una grande improvvisazione ho avuto occasione di fare un paio di rally mi sono divertito divertito perché tutto improvvisato io sono sempre stato un grande improvvisatore niente calcoli niente pre tattiche vediamo al momento decidiamo da farsi le pretattiche poi alla fine non sono mai quelle ma non è mai troppo tardi ma oggi rally di oggi anche lì subentrata lì subentrata cioè una volta arrivano un dieci minuti dall'altro oggi arrivano una un decimo di seconda all'altro in una prova speciale per rally c'è qualcosa che non va cos'è che non va e che cos'è che non va elettronica e filtra tutto pareggia tutti tutti i bravi ed è così lo fanno in moto guarda le moto di cosa si lamentano i piloti nelle moto elettronica ma ci lamentiamo anche dobbiamo sviluppare tutti ci lamentiamo dell'elettronica ma una moto che comunque è una moto a guidare penso che elettronica o elettronica ci vuole un certo pelo e stomaco però è l'elettronica poi tac due righe di software come diceva un mio amico ingegnere elettronico magicamente tutto funziona va bene mettiamoci il cuore in pace che fra un po' girano i droni quindi con le ruote i piloti non servono il nostro corso gratuito è un po' di spettacolo Grazie a tutti.